Lina Palmerini, stavamo dicendo che Salvini invoca i porti chiusi, mentre Enrico Letta ha proposto una nuova missione europea di salvataggio per i migranti. Ora, che impatto possono avere proposte di questo genere su un'opinione pubblica comunque stremata dal Covid, preoccupata per la campagna vaccinazioni che comunque va a singhiozzo, l'economia che è in ginocchio? Tutto questo non è anche carburante per le politiche e la propaganda delle destre italiane? Sì, è carburante però il problema c'è, è oggettivo, è una realtà che preoccupa oltre Salvini e anche tanti altri italiani, quindi io aggiungerei non solo quello che non può fare Draghi, ma quello che Draghi deve fare, perché se ha un peso, come si racconta, un peso, un'influenza in Europa, forse è arrivato il momento per porre la questione del ricollocamento non volontario, ma per esempio obbligatorio con gli altri paesi europei. Anche oggi la commissaria agli affari interni ha dovuto fare una serie di telefonate per vedere come redistribuire i migranti. Allora, quello è un tema forte, perché mentre sull'economia l'Europa ha trovato un principio di solidarietà, perché la crisi era simmetrica, cioè il Covid ha creato problemi a tutti, sull'immigrazione la crisi è asimmetrica, ci siamo noi e basta. Noi in prima linea meno la Grecia, molto meno la Spagna, però di sicuro l'Italia è in primissima linea da tanti anni. Tra l'altro deve esercitare questa sua influenza in un'Europa che non solo è divisa perché ci sono gli alleati di Salvini e Meloni che non vogliono assolutamente rivedere questi criteri, ma ci sono anche paesi che andranno al voto, la Germania, la Francia. Però se non si riesce a trovare un accordo sull'immigrazione, anche la solidarietà economica sul piano economico viene un po' meno e credo anche il prestigio di Draghi, perché tutto sommato Draghi si è trovato con un piano, con un recovery già fatto, che era stato già contrattato da altri. Quindi questo è un po' un suo debutto. Banco di prova, diciamo, nuovo. Sì.